Allora, Michael Douglas, De Niro, c'entra anche Bobby De Niro, sfida genitori e ragazzi 12 giugno 1993, miglior giocatore junior, no senior, vinta da mio padre che si aggiudicò questa coppa, essendo il risultato il miglior giocatore in campo quando sfidò noi ragazzi Pulcini, allievi, juniores, ma io ho sempre tifato per il Bologna Football Club, anni fa fui un patito fan sfigatato di Marco Divai e queste sono tutte le medaglie da me conquistate quando giocai a calcio a livelli esaltanti Sono un uomo nazional popolare, svento nel tricolore e adesso di nuovo questa fissa dei colori col Covid-19, l'Emilia Romagna, zona arancione, fino al 15 gennaio, poi sarà prorogata questa disposizione, aumenterà la mia indisposizione, m'oteneblerò ancora di più nelle noie, nelle paranoie, sì, io soffro di disturbo delirante e paranoide, di fobia sociale, di schizofrenia ma di mio qualche volta di ipocondrie, di malinconia, ma che periodi di grande euforia io non vi racconto balle sulla mia vita, a volte mi piace burlarmi di me stesso essendo pagliaccesco, un tipo da tragi commedie grottesche, un po' alla Ionesco Michael Douglas che c'entra tutto questo, c'entra c'entra, vediamo se c'è gravina qui il fratello, no qui non c'è perché, beh sì, questo sono io questo Fabio Betti, grande fan dei Queen, chissà se gli è piaciuto Brim and Raps, Raps di me non è dispiaciuto, non è fatto male, mi dà ampia ragione il Merighetti, due stellette e mezzo, assegnate, non è affatto un film di merda, è un film dedicato agli ammiratori di Freddie Mercury, siamo pieni di personaggi crudeli, alla Freddie Kruger che stroncano impietosamente, invece film scritti anche bene, Anthony McCartney, la teoria del lutto, eh no no, quasi esplorata da Michael Douglas, no del tutto, Stephen King, Stefano Falottico, Stephen Hawking, i due papi, Abemus Papam, sì, voglio perdonare, andate in pace, che Dio vi benedica e vi assolvo da ogni peccato, forse vi darò l'estrema unzione, ah ci sono gli unitori in questo periodo di Covid-19, allora, i cookie, i cocchi, le albicocche e le gnocche, i miei sciocchi, allora, questo qui, questo Michael Douglas, se le fate tutte, sì, sì, tutte, ha esplorato tutte le lettere dell'alfabeto, è un uomo alfa, eh sì, Fabio Betti, la bet, e Michael se le fate tutte, da A alla Z, Jones, ha, allora, questo mio, ecco, pezzo non di figa come Cattri, allora, sarebbe finalmente ora di glorificare il padre nostro, il padre eterno, l'onnipotente, no? Eh, questo uomo potentissimo, comunque, il grande Michael Douglas, ma non ho mai capito, nel professore patto, ehm, Eddie Murphy, doppiato da Tonino a colla, no? Prima che morisse, anche lui afflitto da brutto male, eh, ma, 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 ma quella nonnetta lì, mi faceva a bagnare, eh, Mike Douglas, ma è lui, no? Eppure è un altro, no? Forse è un altro. A Bologna dicono, questi intellettuali, no, loro, lauret, ehm, o in quel film Sosme, c'è Michael Douglas, eh, eh, attore rapace, sexy beast, andiamo a confondere col film di Jonathan Glazer, confondere con Mitch Glazer, produttore di Paradiso Perduto con Bobby De Niro, regista, di Passion Play con Mickey Rourke, Megan Fox, i miei volpi. Under the Skin, allora, dal fascino immarcescibile, il man per antonomasia del suo stesso incarnare il vivente thriller più avvincente, perché ci fu della suspense quando Michael Samalot, e molti pensarono che non ce l'avrebbe fatta, e invece lui ce la fece, se la fece, Catherine, e ancora forse se la fa, ma ce la fa, questo qui, allora, ecco, pezzo super falotico, eh, prettamente adattato al mio modo unico e inimitabile di vedere il mondo e filtrarlo attraverso la beltà fascinosa dei registi, eh, delle attrici e degli attori più carismaticamente portentosi. Ecco, ora, se proverete ad andare in giro, domandando a chi che sia, potete andare anche in chiesa, a chiedere a una donna della piccola borghesia, lì, ecco, non ne so, che incontrerete lungo la strada, non so se della via o della vostra tortuosa vita, che poi, insomma, voi siete andate a puttana, ormai, lungo i vielli, lì, ecco, quale sia è il suo attore preferito, praticamente nessuno vi risponderà fermamente Michael Douglas, è vero? E come mai? Dimmi come mai? Allora, anche il cinefilo più incallito, o presunto tale, in vero forse un esaltato e ignorantissimo in materia, vi fornirà banali risposte a glorificazione dei mostri sacri dati per assodato. Al che vi sentirete rispondere De Niro, ma, my favorite actor is Junior, Pacino, Dustin Hoffman, Little Big Man, che quello piccolo di statura, ma un grande, forse perfino Philip Sim Hoffman, dallo snob che ama gli ottimi interpreti trapassati, riempiendosi la bocca di una necrofilia dotta. Jack Nichols, se non sei il vostro interlocutore, almeno una volta durante la sua esistenza si becò un trattamento sanitario obbligatorio, un TSO, insomma fu un ricoveretto, perché qui era un po' undead, che fa sempre un uomo problematico dal turbido sex appeal, dall'occhio malandrino, del lupo di mare che esperì la sofferenza dell'anima, restaurandosi o forse deturpandosi sensualmente da Joker di Tim Burton. Eh sì, perché io, eh sì, sono un uomo vissuto e tu non conosci il mio vissuto. Vuoi vivermi, donna? Tutto dentro? Qualcuno ve l'ho? Sul leader cu-cu-cu-cu-culo. Ecco, probabilmente Marlon Brand, che è luogo comune definire il più grande, bello come il sole, eh? In un tram che si chiama Desiderio, non dando bello in the score, lì, forse in quella piscina, lì, poi citeremo, con De Niro. E Edward Norton, forse per chi ama quegli attori, forse un po' emarginati, eh, furono straordinari nella venticinquesima ora, e poi si persero, appunto, un po' per strada, no? A parte Berman, ecco, Joker, Batman, Tim Burton, Michael Keaton, Michael Keaton, si chiama Michael Douglas. Secondo me, controllato, è un nome d'arte per differenziarsi da questo figlio d'arte. Qui sono al bacino, che bacino. Allora, ma anche Daniel Day-Lewis, perché il solo ad aver vinto Trotsky come il miglior performer protagonista. In vero, ne ha vinti anche tre, Jack Nicholson, ma due come protagonista. Abbiamo citato il film di Mios Foreman, qualcuno volò su un'idea. Qualcosa è cambiato, As Good As It Gets, di James Elbrook, se come non protagonista, però per voglia di tenerezza. Oh, oh, tenerezza, mi dissero. Falotico, oh, come tenero, però è anche una schifezza, sì, sì, Daniel, ne ha vintitré, lui no, lui no. Al massimo, tale mentecato il quale parla per frasi fatte, attori strafatti e ripetitivi, che vollero semmai rifarsi come Mickey Rourke, non solo in viso, ma sono sempre stati da parecchi anni a questa parte, in visi, quindi. Johnny il bello, caro Mickey, secondo me qui non ti funziona questo il cervello, ma neanche qui ti funziona. Allora, ripetitivi, monotematici e melodrammatici, forse caricati, avrà recitato la filastrocca di Natale davanti allo specchio solo come un cane, dinanzi a una foto ricorda la sua prima comunione nel mentre. E quelli che ti dicono, ma tu sei un mentore, per dirti sei un mentitore, forse. Il mentore è un'altra cosa, è Al Pacino, nell'Avvocato del Diavolo, in Selt of Human. E Michael Douglas, nel metodo Cominsky. Covid-19, ammattente, anche lo spirito più clemente. Basta con le ciance, io fra i primissimi posti nella mia personalissima classifica, ficco Michael, che invece ficca. Non in classifica, ma una ficca. Allora, attore di Aliur Estrema, figlio d'arte di cotanto padre, che morì ultracentenario. Lui si rivelò comunque al sistema. Sì, sì, aveva l'asso nella manica. Kirk Douglas, uno Spartacus, eh. Allora, ultracentenario, marito di una donna bellissima, over Catherine Zittacions, la quale ora fa la Rolè Cuccarini, fa la Rolè Cuccarini, fa la Rolè Cuccarini, ma chi si fa la Cuccarini, mi ricordate? Ora fa la Lorella Cuccarini di Beverly Hills da Casalinga della sua Scavolini, la cucina più amata degli italiani. Ma la più amata degli italiani fu la cucinotta a quei tempi. Los Angelina, la città degli angeli, ma lì questo Michael è un bel diavolo, eh. Caterine interprete di Prima ti sposo, poi ti rovino. Una delle poche, peraltro, a non essere stata a letto con George Clooney. Che anche questo George se l'è fatta tutta dalla Alà, alla Lisa Snowdon e poi. No Martini, no Parti. E poi, forse è fatta anche Colombare Martini, non lo so, la Canalis, sai che canale lì? Grande. Andava sempre a Venezia, e sempre ospitato. Le pagavano pure il posto letto, complimenti. E Caterine recitò con Antonio Banderas. Ecco, adesso voglio recitare, così, di spagnolo, leggente. Nella maschera di Torro, ma pare che non fu tratto da Antonio. Il bel Antonio? Eh, ma non è Caprini. E finite le riprese del film di Martin Campbell, andò in bagno e fu una piscina alla Robin Schneider, mentre sul Watcher, Walter, italianizzato, diciamo, sul, sul, su, Walter Nudo. No, a mo' di, mo' di catalogo post al market, vi ricordate? Io, all'epoca, ecco, per signore alto borghesi e non per ragazzini degli anni 90, sfogliò l'album, adesso i ragazzini, comunque, basta che sfoglino Instagram e lì. Sfogliò l'album e sognano lì l'album con, con queste donne da limonere, perché, qui, Pompelmo, ma secondo me finiremmo come Alex di Arangia, meccaniche, delle foto di scena di Zorro, di Duccio Tessari, con Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon, arrivata la terza pagina, ipnotizzata e rapata dal tenevoloso Delon dei Tempi d'Oro, con tanta spada felata, la casa di Catherine assomigliò alla diga delle tre gole, gola profonda, da non confondere col triangolo delle sue bermude, eh sì, e lì, Catherine, che non è un gesso, però lì, sopra, lì, che poi ha lavato tutto con, con l'idraulico gel, cioè, allora, allora, Catherine corrobbe Michael su set di Traffic, Traffic, e Michael avrebbe meritato l'Oscar al posto di Benice, Benice del Toro, che è quella alle palle proprio di, ora, rividi delitto perfetto, Perfect Mordor, il remake di Andrew Davis, regista del Fuggitivo, domani uscirà nella recensione, in merito, già inserita, di video review, sul mio canale YouTube, eh, su Da Roma e Viucina, con Douglas, per l'appunto, certo, film mediocre, e scialbo, ed affrettato, nel finale davvero, davvero tirato via, e con un Viggo Mortens, che prima di Cronenberg assomigliava a Navarino, Navarino, io lo corrobbi, sì, sì, Bidello del Liceo Sabin, via Brocchendosso, sì, sia di Bologna, con veletari ambizioni da cubista, fancazzista, ma adesso ce l'hai un lavoro, ma sei sempre il solito, fancazzista, fa un cazzo lui lì, bisogna farsi il culo, e Michael se lo fa tutto, in zona perennemente succursale del suo credere, sul pittore d'alta scuola, semmai un giorno recensito da Sgarbi Vittorio, che forse gli sarà sgarbato, o forse questo è un avarino, ma è stato ospitato dal Di Pre, in verità vi dico identico anche al Viggo di lupo solitario, e ho detto tutto, e allora, fin dico frusciante, considera il rifacimento di Davis una schifezza, perché a suo avviso Hitchcock non si tocca, eh no, sicuramente, però io ho questo dubbio, Gwyneth Paltrow, dopo essere stata con Brad Pitt e Chris Martin, ma non solo questi due, non c'è due senza tre, ma anche senza quattro, però, e poi, perché non fa più l'attrice? Che fa su quel sito? Che cosa vede? I prodotti vanno a disegnare? Che schifo, è proprio tocca, eh, che fa ora? Si tocca su Michael Douglas della Guerra dei Roses, eh, che è di Danny DeVito, che poi dicono, se tu ti tocchi, diventerai tocco qui, eh, non devi toccarti, eh, Michael Douglas è intoccabile, no, 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 eh, Danny DeVito, se un nano è non darti qualcosa di onanistico, no, eh, eh, allora, perché poi, e tu sei malato qui, poi potresti mettere al mondo dei gemelli, uno più grande e uno più basso come Danny, no? Infoi andosi nel pensare che Douglas sia in vero l'idealizzato, in vero mai soddisfacente Ben Affleck, col quale lei non andò d'accordissimo caratterialmente, però, e con cui giocò al tiro, al piattello, no, ai piatti, dopo una cena a base di inferocite urla non piccanti come il tobasco più caliente, Michael ebbe la fortuna di superare il cancro, il suo compagno Val Kilmer, sì, di spiriti nelle tenebre, prima si arrabbiò quando Michael in diretta disse, ma anche il mio amico va al cancro, ma non è vero, non è vero, invece ha fatto bene Michael, bisogna dirsi la verità, allora, purtroppo invece sembra spiccicato a Patrick Swayze, qui sono cinico, sono brutale, no, 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 quest'ultimo protagonista della città della gioia, sono come De Niro di The Commedia, lì c'è De Vito, no? De Niro? De Vito? Ehi, attenti, quei bravi ragazzi, come si chiama? Joe Pesci, che è un po' rano, Tommy De, bravo, sì, adoro Michael Douglas perché è come me, allora, nei miei momenti di rabbia acuta lo idolatrai in un giorno di ordinaria follia, sì, sì, perché lì è proprio lupesco, sì, 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 la rabbia, vedete, quei canini lì, dopo che mi sverginai invece rividi Basic Instinct e in un attimo di auto-venerazione e pensai che arrivato io all'età in cui Mike fece l'amore per finta con Sharon Stone, ma sono sicuri solo per finta? Veramente? Ma fingeva? A me sembrava... io avrei avuto una donna più bella di Demi Moore di Rivelazioni. Purtroppo sono deluso e mi sbagliai di grossa, e no, 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 ma che Demi Moore di Rivelazioni, è la mia lei molto più bella di Demi Moore, e non è Moore però, è biond, come Sharon Stone. Allora, inoltre, sai sempre che gli uomini affascinati come Douglas, sì, sposino una, come la Zeta Jones, molto più giovane di lui, perché è quello, è i soldi, vede Vettore Ciccogoro, è stato anche Valeria Marine, poi, ed esco... Ma doveva stare con Mary Steeb, che quella è una donna che vuole un uomo che ragiona, infatti Ritorno al Futuro 3 con chi sta? Con quello che è Doc, ma non soffre del Doc, disturbo ossessivo-compulsivo come Jack Nichols, se di qualcosa è cambiato. Io sono come quello lì, Christopher Lloyd, che compare anche a qualcuno, volazione di cucula, e compare anche a Dan David, no? E poi, a Pacin, Jimmy Hoff, off stando mafioso di chi è? D'Oden, no? Il flusso canalizzatore, potete sempre cambiare il vostro destino, se lo voleste, vorrete, e se la volete, perché... E beh, vorrei ma non posso, eh sì, e beh... Ma tu sei il classico tipo, vorrei ma non posso, eh non può, perché non hai soldi vecchi, la Catrizita Josh, mica viene con te, eh sì, tu sei bello, ma anche povero, eh? Allora, no, chiariamoci, Mary Steeb, che compare in Las Vegas, beh, avrei da raccontarvene tante sulla mia vita, mi ricordo che ai tempi delle scuole medie un mio compagno di classe, tale Alessandro Gravina, fratello di quello lì che non si è visto, ma io fui invisibile, ma non lo so, biondo, alto, metro e novanta, con gli occhi azzurri, insomma, un principio, che... mi prendeva sempre in giro, definendo Milano. Le ragazze andavano matte per Alessandro, e... era uno come Alessandro Magno, quello lì, adesso è diventato un mezzo bagneccio, insomma, quello... e poi quelli con la panza, che una volta che si sono sistemati, dopo semmai aver minacciato i suicidi, e si è stata ricoverata, adesso ti dicono, beh, appena ti vedono un po' così, no? Ma... beh, o io mi sono fatto il culo, o... e... beh, beh, beh... e sta a posto... beh, beh... e lo seguivano a ruota libera, dandogli manforte, sì. Durante una lezione di educazione fisica, Gravina mi disse a modo di sfotò, Neno, vediamo se riesci a segnare, no, non lo disse in bolognese, forse questo Gravina, Gravina delle Pusiere, di origini pugliese. Neno, vediamo se riesci a segnare. Un po' anche Luca Calabresco, sì. Giocava a calcio e lui militava nella squadra avversaria, e, di fortuna, riuscì a segnare, fra l'altro, durante i corsi di educazione fisica, è raro che si giochi a calcio, di solito si gioca a palla a volo, e Catherine vide questo Michael, disse questo... Prendiamo subito le palle al volo di questo qui, impalliniamolo. Allora, allora... Ecco, e, di fortuna, riuscì a segnare, mi sono però dimenticato di narrarvi un particolare. Ora, se puoi interessarvi, dribblai a Alessandro, e segnai... No, avete presente Maradona? Ah! Rummenigge! L'allenatore nel pallone? Maradona? Maradona! Maradona! Non era molto falloso in campo, però era davvero stronzo. Quando... In campo. Non era falloso in campo, però. Non era molto falloso, virgola, in campo. È chiaro? Però era davvero stronzo. Quando si adireva, faceva davvero piangere a tutti. Credo che Alessandro quel giorno non lo dimenticherà mai. Non lo dimentica ancora, in quanto lo umiliai. Quindi ancora... Adesso si sente umiliato? No, perché gli chiesi, già all'epoca, se gli piacesse Michael Douglas. e lui mi rispose, a me piacciono solo le ragazze. Beh, adesso qui è proprio fesino, eh. A me piacciono solo le ragazze. Non me ne può fregare di meno degli attori. Sentirete che recitazione del Falotico che sta, in queste ore, recitando Bologna in sanguinata, già disponibile in Kindle Amazon, presto in cartaceo, in e-book normale. E io sono un uomo abnorme. Mi disse, ma quello lì, quel Falotico non è normale, per forza. Normale fa il paio con mediocre. Allora, sì, oggi come oggi, Alessandro è sempre alto, biondo, con gli occhi azzurri, ma forse anche un po' più alto, perché all'epoca, insomma, fino all'età di 16-17 anni si cresce. Soprattutto qui si sviluppa. Però è sposato forse con una di nome Giuseppina Cannavello. Eh, sì, sì, sì. E questa è una fanatica di Cannavaciuolo. Come no? Forse Giuseppina è bella e intelligente? Ma secondo voi Giuseppina ha mai visto Chorus Line? Di Richard Attenborough, regista di Charlot. Qui sono Robert Downey Jr. C'è un po' il fashion qui dell'Iron Man. Allora, è già l'attore preferito della signor Cannavello in gravine e Vincenzo Salem. Insomma, questo gravine in salam, dai. E ho detto tutto. Comunque, evviva anche Mario Merola. Che figli so pezzegore. Poi, anche Nino D'Angelo. Ecco. Di mio sempre preferito i figli di Putena, come Mike. questo Bologna in sanguinetta sarà citato anche Bergonzoni. no. Sì, conobbe uno psicologo, poi c'è il comico bolognese, Andrea Rongetto. Sai che tu sei proprio figlio di? Né di Diatura, né di Lecce. Tu sei proprio un figlio, ecco, perché io amo Black Rain? No. Pioggia sporca. Sì, con quella porca di Sharon Stone. Lì c'è una pioggia, ma quella è White Rain. Un po' macchiata, sulla donna non immacolata, tutta maculata. Quando si dice incontri una così devi subito rompere il ghiaccio, infatti c'è il trita, ecco. Allora, quindi, se non vi piacciono, cari uomini, è meglio, mi piace di più rispetto a voi Douglas, ma non sono omosessuale. Se mi date del pezzo, credo che piangerete più di gravine. Ecco. Voglio concludere con quest'ultima. Fre, 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 fregatura, fre, freddura. Allora, Bologna, ma peste, questo qui, si vante di scopare una tizia. Dio, buon che è sfigata. Ma certamente, non è mica tua moglie. Che vorresti dire? Tua moglie è la signora Cannavella e tu non sei l'unico cari gravine che se la fa. Che cosa? Quindi tu ti fai mia moglie? No, per carità, per l'amor di Dio, se la fa il suo amante, quindi cari gravine, sei pur cornuto. Sei come Mickey Rourke di Angel Art, che è quello. il dievolo, De Nira, le correntesse, ma lui è l'amante di tua moglie, non è Douglas di Wall Street. Adesso deve un po' essere stringente, perché il tempo strige, è chiaro? è quello che ti dicono, è ti fricce, fra l'altro in meridione. Quando uno prova rabbia, no? Mia nonna diceva sempre, questo proprio contiene in nuce, proprio il senso, ecco, della vita, proprio questa meridionalità, questa italianità, no? Sempre questo culto della competitività, il culo, ecco, adesso hai rabbia, ti senti di fottere, che non significa ti senti di fottere, ma significa anche questo, perché la rabbia in questa società occidentale viene associata per l'appunto alla sfiga, quindi alla mancanza di figa, e quindi ti senti di fottere, ti senti di fottere, ma ci rendiamo conto? Qua si parla per luoghi comunque, dai. Allora, mi spiace per te e per lei, ma chi ti mette le corna assomiglia a Michael Douglas durante il cancro, però ha 30 anni e non ha il cancro, eh? Senti Stefano, andiamo a farci una partita a calcio, eh? Poi, andiamo a farci una bionda? Allora, va bene, tanto ora sei sposato, io sono Fantozzi, scapoli contro ammogliati, o mollati forse, ti lascio vincere, e questo qui, sempre questa gravina, tante, vuole mollare, me ne, ma ne molla, perché lì sul letto adesso, non lo molla alla moglie, ma, eh, adesso se senti di fottere, e quindi a tutto il fegato amare, di notte, sai che botte, ehi, oh, stai esagerando, adesso ti meno, gridò Gravino per fare il figo, con i suoi amici, Cassi Integrate, sì, ferro tramvieri, dopo lavoro ferroviere, sì, me la cavavo a giocare a calcio, avevo solo 13 anni, ma col passare degli anni, cominciarono a piacermi pure la boxe, il kung fu, e ho detto tutto, chi sei tu Gravina, sei Bruce Lee, io sono Brad Pitt, ti siano una volta a Hollywood, stai calmo, allora, la signora Cannavella ha chiesto il divorzio, pare che al posto di Gravina abbia scelto Val Kilmer, sì, povero Val, passata a Cindy Crawford, Derry, pare che sia stata anche con Angelina Jolie, e ora a non avere una girlfriend da 20 years, così, da sue recenti dichiarazioni, ma non è vero, ma va al mentì, da tempo si consola, con Carmen Consoli, che è quella, che è una voce che lì, non deve aver goduto molto Carmen, allora, da tempo si consola infatti con la Cannavella, forse anche con Carmela, o la Cannavela, Carme, Carme, vuoi la Cannavella? La signora Cannavella è già, che a sua volta si consola con Kilmer, dopo Gravina, e il suo amante non tanto bello, allora, viste che cartolo, Bologna dice, l'hai visto Michael Douglas, in quel film di Ritter Scott, Black Rain, ma una cartola, tutto scartolato, senti, bello, ma con che cazzo pensavate voi, e tu, devi avere a che fare, io ve la faccia da capi, sono i cini, e c'è una ragione, tutto sarà, sfiscerato e nucleato, in Bologna e sanguinato, you understand? capelli, non sono più guardate una volta, non sono più guardate una volta, mentre è quella, è quella che fa, non sono più guardate,